Una grande mappatura del patrimonio immateriale della Sardegna, anche la musicalità può entrare a far parte del censimento UNESCO. A Roma, all'Assemblea Nazionale delle Umpli, la cultura sarda è protagonista, l'annuncio del via alla rilevazione nell'isola è preceduto dai canti del coro sunugoresu, prima per le strade di Roma e poi davanti a tutte le proloco italiane. La musicalità è un altro degli elementi fondamentali del patrimonio culturale immateriale, ricordiamo che il canto a tenore lo è già e adesso noi pensiamo di tutta la musicalità sarda che è bellissima e tantissima di trasferirla pari pari nel patrimonio dell'UNESCO. Il comitato scientifico farà da supervisore della testimonianza di culture e tradizioni, dimostrazioni di patrimoni viventi, di quel senso delle comunità che si trasforma in presente, la Sardegna è la prima a partire tra tutte le regioni. Le proloco in Sardegna fanno tantissimo, il loro lavoro è quello, quello devono cercare di proteggere, valorizzare, tutelare il loro patrimonio che è quello di ogni piccolo paese, se lo facciamo tutti assieme stiamo valorizzando la Sardegna. Intanto significa divulgare un messaggio importante che è l'attaccamento alle radici, le tradizioni sono la nostra identità, i cori di ispirazione popolare nascono per sostenere e preservare le nostre tradizioni. Le proloco svolgono un ruolo fondamentale, peraltro peculiare all'identità sociale, storica e culturale del nostro paese, valorizzando al meglio le realtà locali.